La Procura di Torino rinuncia all'appello, misure interdittive per Juve e dirigenti. La Procura di Torino ha deciso di rinunciare alla richiesta di misure cautelari nei confronti della Juventus, di Andrea Agnelli e degli altri indagati nell'ambito dell'inchiesta Prisma. La richiesta avrebbe dovuto essere discussa nell'udienza di appello fissata per il 21 dicembre dopo che già a fine ottobre il GIP del Tribunale di Torino, Ludovico Morello, aveva respinto le richieste di misure nei confronti degli indagati. L'appello avrebbe riguardato anche il sequestro preventivo di circa 437.000 euro. In relazione al presunto reato di dichiarazione fiscale fraudolenta, il reato era stato contestato nei confronti di alcuni dirigenti presenti e passate dalla società bianconera. Il GIP aveva respinto le richieste di misure presentate dalla Procura per mancanza di rischio di reiterazione del reato, le manovre stipendi erano legate all'emergenza Covid e quindi è un periodo storico non più attuale. Nel frattempo sono inoltre intervenute anche le dimissioni in blocco degli amministratori bianconeri indagati.